La possibilità di monitorare la glicemia a casa rappresenta un modo per gestire la terapia basandosi sulla valutazione dei risultati con l'apparecchio che misura la glicemia, cioè il fotoreflettometro, in maniera tale che il paziente da solo, anche con l'ausilio telefonico del proprio diabetologo, può modificare la terapia in funzione dei valori di zucchero che trova nel sangue facendo questo controllo di facile esecuzione. Sulla base di quel tasso di zucchero il paziente, se la glicemia è troppo alta o se la glicemia è troppo bassa, può fare una modifica della terapia.